ciao carissimi bentornati in questo nuovo video e un benvenuto come sempre lo do ai nuovi oggi voglio fare questo video di tipo motivazionale diciamo la parte più filosofica psicologica se vogliamo dello studio della musica come di qualunque altra materia però io mi occupo di musica questa è una parte sottovalutata quindi ti invito a guardare questo video fino alla fine perché se ti sei fermato su questo video insomma hai visto nel titolo ho scritto la frustrazione che si prova quando non si migliora in un percorso di studio quindi ti dico il mio punto di vista basato anche sull'esperienza e sulla storia di tante persone che ho conosciuto visto che faccio didattica da un bel po' di tempo anch'io sono stato studente e lo sono ancora perché non si smette mai di studiare c'è sempre la possibilità di scoprire cose nuove e di migliorarsi quindi lo studio non finisce mai se non l'avessi ancora fatto iscriviti al canale mi raccomando attiva anche la campanella così saprai quando pubblico prossimi video fatti un giro sul canale se non mi conosci perché faccio una divulgazione musicale a 360 gradi ho parlato tantissimo di sistema kajed quindi il sistema chitarristico che ti permette di vedere scale arpeggi accordi tutto quello che ci serve per suonare ci sono video dove canto e suono mi piace consigliare ascolti e ti puoi anche abbonare al canale per accedere a dei video riservati agli abbonati dopo questa introduzione entriamo nel vivo dell'argomento assicurati di avere la concentrazione giusta l'attenzione giusta per questo argomento che può sembrare scontato e banale ma non lo è alla fine si tratta di consapevolezze che averle o non non averle fa veramente una grande differenza io mi sono segnato un po di cose ad esempio la prima che mi sono segnato è che la musica è un sistema matematico quindi alla domanda cos'è la musica la musica è matematica ok matematica questo ce l'ha dimostrato secoli fa back l'ha fatto appositamente per dimostrare la matematicità del nostro sistema musicale che è il sistema temperato infatti lui nel famoso clavicemmalo ben temperato ha fatto 24 composizioni 12 in tonalità minore e 12 in tonalità maggiore perché 12 perché l'ottava musicale ha 12 suoni quindi da questi 12 suoni posso avere 12 tonalità per ognuno di questi suoni quindi do maggiore do diesis maggiore re maggiore re diesis maggiore così via posso avere poi do minore do diesis minore capito se sei completamente a digiuno di questi argomenti vai nella mia playlist teoria musicale perché trovi vari video dove si parla di teoria musicale comunque la musica è un sistema matematico è un sistema equabile è l'esempio che ti ho fatto poco fa di back lo dimostra quindi tu cosa potresti fare prendere un brano che è in una tonalità lo puoi suonare in tutte le tonalità perché quella matematica che c'è in quel brano le stesse note gli stessi rapporti di intervalli e di accordi li trasporti in tutte le tonalità non si sfugge da questo è perfettamente matematica quindi è un sistema artificiale inventato dall'uomo però attenzione è un sistema artificiale che però si basa su elementi fisici naturali che sono le frequenze e qui c'è da aprire un capitolo molto complesso che tratterò in un altro video perché è un tema che mi affascina praticamente da sempre ho fatto molta ricerca su questo però il discorso è perché noi sentiamo consonante la quinta giusta perché la triade è fondamentale terza quinta perché il sistema temperato ha questi 12 semitoni perché sono state scelte queste frequenze ben precise perché anche tra un semitono e l'altro quello spazio lì ci sono infinite frequenze cioè la natura che ne so il vento che fischia non è che sceglie di suonare do o do diesis suona tra virgolette suona anche una frequenza che infinitamente a metà tra do e do diesis ok capito qual è il concetto che sono frequenze ma perché queste frequenze precise all'interno dell'ottava musicale se non lo sai ti apro ti do un input importante all'interno dell'ottava musicale possiamo riscontrare la famosa successione di fibonacci hai presente cos'è la successione di fibonacci la successione di fibonacci è una costante matematica dove tu sommi due numeri e viene fuori un numero che sommato a quello precedente ne dà un altro ancora insomma vai a vedere cos'è la successione di fibonacci perché poi si riscontra anche a livello di proporzioni questo è riscontrato anche nel corpo umano nelle piante nei fiumi è veramente una cosa incredibile una sorta di costante universale chi conosce questo argomento che scriva nei commenti perché una cosa molto affascinante anche dentro l'ottava musicale ci sono queste proporzioni potremmo dividere l'ottava musicale in due segmenti dove il segmento a sommato al segmento b da il segmento c che tutta l'ottava e chiudo qui questo argomento perché lo tratterò in un altro video però c'è parecchio da approfondire a livello fisico del perché la quinta se poi parliamo di quella che si chiama armonia negativa è molto importante il discorso della di questi rapporti ne parleremo in altri video però questo era per farci capire che la musica è matematica e nei secoli si è capito che funzionano bene queste determinate note perché ci sono dietro queste queste costanti è anche una sorta di mistero questo quindi se la musica è un sistema matematico tu devi studiare le regole matematiche che reggono questo sistema devi poi studiare la tecnica strumentale per applicare queste regole su uno strumento ti ho parlato in più di un video ti ho citato la regola delle 10.000 ore cosa significa che per diventare bravi in qualcosa bisogna passarci sopra almeno 10.000 ore e se ti fai il calcolo possono essere anche decenni di studio su una determinata cosa quindi le cose da fare sono tante le ore che si devono impiegare sono anche tante quindi è complesso per questo però la cosa più importante non è questa la cosa più importante è che tu puoi fare gli esercizi tu puoi andare dal migliore insegnante del mondo puoi fare mille corsi questa è la storia di tante persone le persone quando arrivano a lezione da me chiedo un po di raccontarmi la storia musicale faccio sempre questa domanda tra parentesi se volessi fare lezioni con me trovi la mail in descrizione mi contatti le persone hanno una storia molto simile quasi tutti mi dicono guarda io ho iniziato un po poi mi son fermato poi ho cambiato insegnante poi mi sono rifermato poi ho fatto un corso poi sono andato in un'accademia non riesco mai a tirarci niente di buono dimentico sempre tutto tanti di voi potranno confermare questa cosa se ti va a scrivila nei commenti se no se non ti vuoi esporre tienitela per te ma io lo so per certo e questa è una cosa molto diffusa e sai perché perché non ti basta studiare con l'insegnante non ti basta fare il corso non ti basta fare gli esercizi anche se tu hai un ottimo insegnante non ti basta fare gli esercizi la tecnica che sono cose assolutamente fondamentali non è che ora dobbiamo fraintendere e capire che non serve quello serve assolutamente però io ho basato la didattica su una cosa fondamentale cioè diventare didatti di se stessi significa sviluppare la creatività se io ti do un esercizio ti do un input su una cosa poi tu devi oltre a fare quello che ti dico io cercare con la tua creatività di arrivare a un risultato che o analogo o simile o a una variazione di quello che abbiamo fatto ti faccio un esempio con la matematica se io ti insegno l'addizione e la sottrazione ti dico dobbiamo ottenere il numero 4 facciamo 2 più 2 o 5 meno 1 ok otteniamo 4 adesso tu non devi fermarti a 2 più 2 o 5 meno 1 devi prendere cos'è l'addizione aggiungo elementi cos'è la sottrazione ne tolgo 4 lo puoi ottenere facendo 1 più 1 più 1 più 1 oppure 6 meno 2 o 9 meno 5 o 1 più 3 e infinite possibilità capito cosa significa discorso creativo se io ti dico su questo accordo o su questa progressione di accordi puoi usare questa scala e ti do degli esempi puoi fare la scala col salto intervallo poi fai queste note poi magari usi la triade che si costruisce sulla scala e ti faccio anche degli esempi concreti ti posso anche dare un esercizio che farai a memoria uno studio dove suonerai una melodia ben precisa però poi tu devi prendere quegli input e creare una tua versione di quello finché tu non farai questa cosa andrai sempre avanti a cose fatte a memoria a cose meccaniche cose che dirai ma perché non riesco a fare nulla oltre a questo perché non sviluppi non alleni quel muscolo che è la creatività ed è una cosa difficile attenzione è difficile ma sarà difficile all'inizio col tempo diventerà sempre più facile ed è una cosa che poi si può evolvere all'infinito non si smette mai di studiare se uno ha voglia di mettersi in gioco non si smette mai a me piace studiare tutti i giorni studio musica da quando ero ragazzino ho avuto un sacco di insegnanti mi sono diplomato in conservatorio sto per iniziare nuovi corsi di laurea in conservatorio perché voglio studiare anche altre materie quindi non si smette mai di imparare si scoprono sempre cose nuove quindi il fulcro dello studio è che deve esserci sempre questa parte creativa dove tu capisci una cosa la insegna a te stesso e tiri fuori un tuo modo di interpretare un determinato argomento questo ti spiega perché Bach e altri mille compositori pensa anche al tuo musicista preferito usano tutti lo stesso sistema matematico governato dalle stesse regole ma fanno tutti cose completamente diverse anche lo stesso identico argomento che ne so la triade l'arpeggio la scala maggiore usata da un musicista crea delle cose poi la senti da un altro e sembra un'altra cosa quindi considera che se ti senti fermo o ferma nel tuo progresso e sei in preda alla frustrazione io consiglio sempre di abbandonare questa frustrazione perché semplicemente una questione di acquisire la consapevolezza che le cose funzionano in questo modo devi piano piano accedere al tuo contatto creativo con la musica creare quella passionalità secondo me il termine migliore da utilizzare questo passionalità devi avere passione perché è talmente impegnativo che solo se hai una grandissima passione potrai fare questa cosa infatti quelli che ci riescono sono pochi appunto perché pochi hanno questa voglia questa costanza questa voglia di faticare di fare questa fatica che però è una fatica piacevole e godersi il percorso bisogna aver pazienza essere contenti di quello che si sta facendo godersi i piccoli passi che si fanno poco alla volta oggi riesci a fare delle cose domani ne farei altre dopo domani altre ancora tra qualche anno chissà poi un altro spunto che ti voglio dare con questo poi concludo il video è di non precluderti niente in termini di esplorazione musicale prima di tutto come ascolto questa cosa la specifico perché ci sono persone che a priori non vogliono ascoltare altre musiche che sono fuori da quello che loro hanno deciso che sono di quel genere esiste solo quello questa è una forma di mentalità chiusa non ti precludere niente ascolta ad esempio la musica classica è troppo importante ascolta autori come Bach ascolta Beethoven ascolta gli autori impressionisti che io amo tantissimo Debussy Ravel Rachmaninoff Giuseppe Verdi ascolta l'opera è molto importante ascolta il jazz che è un mondo veramente vastissimo ascolta più musica possibile riempi la tua testa di musica devi avere la testa piena di musica solo così potrai creare un gusto solo così potrai capire cosa ti affascina di più cosa ti piace di più e non scegliere per gli alibi che ci si crea questa cosa la vedo più raggiungibile più facile mi convinco che il mio genere è quello perché spesso il discorso è questo il discorso è questo che la maggior parte della gente si affeziona una cosa che non li fa faticare tanto e questo ci sta ora non è che la pratica musicale deve essere un impegno continuo uno magari si vuole anche rilassare sullo strumento e lo capisco ma torniamo a quello che dicevamo prima devi avere passione se tu hai veramente la passione vedrai che anche una cosa impegnativa e difficile ti piacerà scoprirla anzi ti incuriosirà sempre di più cercare di acquisire quelle competenze che ti servono per poter raggiungere determinati obiettivi quindi mi andava di dare questi spunti farò sicuramente altri video di questo tipo fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e che dire ti aspetto in prossimi video